Mangiare mangiamo tutto egigiorno, chi più, chi meno, chi meglio, chi peggio, però non è più un problema di mangiare, di riempirsi la pancia. Quindi per come la vedo io non ha senso andare al ristorante soltanto per mangiare e riempirsi la pancia, no, io voglio andare al ristorante per avere un'esperienza unica che non posso avere a casa mia, che non posso cucinarmi da solo, che non trovo da altre parti, allora lì ha senso pagare, pagare tanto per avere un'esperienza unica, altrimenti non è una questione di cibo, mangio, mangio comunque, io voglio trovare qualcosa di unico, ecco perché è fondamentale pensare a che esperienza regalo ai miei clienti, come li faccio sentire, davvero è unica la mia proposta?